Buongiorno a tutti, mi presento, sono Eva degli Innocenti, sono il direttore del Museo archeologico nazionale di Taranto. Qui non sono un'esperta di marketing, però parlerò di marketing culturale, quindi come i musei, in particolar modo i musei archeologici, utilizzano gli strumenti del marketing e della comunicazione, però per un fine, possiamo dire, di capitale umano, cioè come riscoperta dell'identità. Allora in effetti la criticità con cui possiamo un po' analizzare i musei italiani, allora i musei sono sicuramente degli organismi molto complessi, sono degli ecosistemi, sono proprio degli hub con una forte componente sociale e culturale, ma anche sicuramente economica. Intanto la criticità italiana, parlo di musei statali, perché in effetti alcuni musei privati hanno una fortuna di avere dei modelli un po' diversi. Soltanto il 26% dei musei statali realizza indagini finalizzate alla conoscenza dei visitatori, quindi il resto non sa fondamentalmente chi viene al museo. Quindi ovviamente c'è una forte, fortissima ritardo proprio sulla conoscenza dei visitatori reali e sicuramente su quelli potenziali, perché non è una domanda che ci si poneva. Quindi è chiaro che in realtà le ricerche per noi importanti, e prima di tutto, soprattutto per un museo statale, che è un museo, diciamo, il fatturato più importante che un museo pubblico può fare è la cultura che trasmette alla propria comunità. Invece è proprio la conoscenza di questi pubblici, quindi quali sono i pubblici abituali, quali sono gli occasionali, quali i potenziali e soprattutto i non pubblici, che sicuramente è uno dei segmenti più importanti. Chi non viene e per quale motivo non viene al museo? Il panorama museale italiano, per fortuna, è stato didamizzato da una recente riforma del 2014, la riforma dei beni culturali, e che ha visto la creazione dei primi 20 musei autonomia speciale, fra cui il museo che dirigo a Taranto, gli Uffizi, per esempio, la Regia di Caserta, il Mann, Brera, rientrare fra i primi 20 musei con un'autonomia gestionale, scientifica e soprattutto un bilancio autonomo. Quindi una struttura che deve essere non solo un motore di sviluppo socioculturale, perché chiaramente siamo museo pubblico, però deve avere anche una forte influenza per contribuire ovviamente all'economia dei territori in cui sono inseriti. Oggi sono 30 musei. E io nella mia parte mi dedicherò soprattutto ai musei archeologici, i primi quattro che furono creati, quindi il Museo di Taranto, il Museo Nazionale, il Museo di Reggio Calabria e Pestum. Non tanto come business case, perché oggi facciamo un talk, però sicuramente mi devo riferire a casi tangibili, emblematici. Quindi il museo che dirigo, una breve sintesi, perché altrimenti per capire dove viviamo. Innanzitutto viviamo a Taranto, quindi una città che è conosciuta per altre cose. In realtà ha un museo che è uno dei più importanti al mondo ed è il secondo museo archeologico nazionale più importante dopo il Museo di Napoli. Forse noi pensiamo a Taranto, sicuramente ci viene in mente un'altra parola, che oggi non voglio dire. E in realtà ha un'eccellenza culturale, ha più eccellenze culturali, ha un patrimonio culturale sconfinato, grande eccellenza della Magna Grecia. Quindi un museo fondato nell'Ottocento, si trova sicuramente comunque in un contesto della Magna Grecia, quindi anche con una grande tradizione culturale, depositario di un patrimonio ultramillenario. In Puglia, quindi questo è interessante, quindi oggi il brand Puglia è un brand molto importante, soprattutto alle fiere del turismo internazionale. Oggi la Puglia è forse il motore del Mezzogiorno italiano, quindi la Taranto e il suo museo sono inseriti comunque in una regione che sta facendo del suo marketing, soprattutto culturale, un volano importante di sviluppo. Il museo è stato creato come grande museo della Magna Grecia, oggi è molto di più perché il percorso inizia con il Paleolitico Superiore, quindi queste bellissime veneri di parabita di più di 20.000 anni fa, fino a concludersi con il Medioevo, quando Taranto era una scelta multietnica. Quindi se vediamo c'è questo grande, grandissimo patrimonio che in realtà va oltre. E poi gli ori. Gli ori di Taranto sono stato uno dei primi brand. Negli anni 80 ci fu questa importante mostra che addirittura portò gli ori di Taranto negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina. Fu proprio un modello anche gestionale, economico, di come utilizzare, quindi fare marketing culturale nei musei quando non se ne parlava, francamente, quindi erano gli albori, come utilizzare una grande eccellenza culturale italiana, non solo territoriale, per esportare quindi un brand importante e quindi anche una finalità che era quella di creare incoming sul territorio. Ed ebbe un grandissimo successo questa mostra. Ed è conosciuto in effetti questo museo anche a livello internazionale per i famosi ori. Quindi siamo in piena età ellenistica e noi ci siamo cominciati a porre la domanda chi sono i nostri visitatori. Sicuramente in un contesto come quello di Taranto per noi era importante che questo museo riuscisse a investire nel capitale umano in primis della sua comunità e quindi si rivolgesse in primis ai bambini come ambasciatori del territorio e quindi come target importante a cui dedicare una programmazione ad hoc. Quando io sono arrivata al primo dicembre del 2015, quindi tre anni e mezzo fa, il software del museo permetteva appena di distingue fra visitatori italiani e stranieri. Quindi che io fossi cinese, francese oppure tarantino o milanese per insoffere la stessa cosa. Eppure se io fossi un bambino, un adulto, quindi pubblico signores, era quindi un mare magnum da cui non era possibile trarre alcun dato. Quindi noi abbiamo cominciato a creare una programmazione culturale per target di pubblico, intanto a chi ci rivolgiamo e quali sono i contenuti. Quindi con delle tematiche mensili che sono univoche e poi declinate su vari target di pubblico, a cominciare proprio dai bambini. Abbiamo cominciato a fare le prime profilazioni di pubblico. All'inizio quando io l'ho introdotto sembrava che io fossi una pazza scatenata perché erano domande che non ci si era mai poste e quindi abbiamo cominciato a differenziare non solo per provenienza geografica, ma se si veniva in gruppo, in singoli, la fascia di età e quindi abbiamo cominciato a conoscere quali erano i nostri visitatori reali, effettivi. Quelli potenziali poi li capiremo dopo. Quindi questi importanti ori, come dicevo, e poi sicuramente un altro grande testimonial, quindi la cultura che poi diventa utile per il marketing è stato il grande atleta di Taranto, quindi questo grande reperto archeologico, il grande atleta della storia del quinto secolo a.C., che aveva vinto un pentatleta della storia, ha realmente vissuto tarantino e che è stato utilizzato, è stato portato alle Olimpiadi di Pechino e ha rappresentato l'Italia, quindi questo patrimonio culturale ha rappresentato quindi lo sport nell'antichità a livello internazionale. E anche qui abbiamo cominciato a utilizzare questi reperti archeologici per il nostro target di pubblico. Qui abbiamo dedicato in effetti il fumetto, il cuore d'atleta, per gli adolescenti che è un pubblico molto difficile da captare individualmente, dico, a parte le scuole. Sicuramente la nostra moneta di Taras sul Diffino, quindi l'eroe fondatore di Taranto, è stato comunque utilizzato proprio per il brand di un marketing, insomma ho volutamente nascosto la marca, una nota marca che ormai è una multinazionale e quindi in realtà loro sono stati i primi, insomma, a utilizzare questo, quando ancora non esisteva il fatto di cedere l'immagine dei musei per ottenere delle fees, per esempio, che era qualcosa di incomprensibile. Allora, sicuramente il marketing per noi è molto importante, sicuramente sia il marketing che la comunicazione rivestano un ruolo sempre più importante nell'ambito museale italiano e soprattutto attraverso quella che è l'innovazione digitale. Però è importante soprattutto quello che ci siamo resi conto a livello appunto di museale, quindi anche di discussioni con i colleghi, è che la cosa che è più importante nell'utilizzo dell'innovazione è proprio questo elemento che ci consente di interagire con i visitatori che sono reali e potenziali, soprattutto nella fase del prima, durante e dopo la visita. Quindi con un'attenzione anche dopo la visita, cioè come riusciamo a fidelizzare ai visitatori che sono arrivati, quali tipi di contenuti io posso dare dopo che il visitatore è... come riesco a mantenere questo legame forte. E quindi abbiamo cominciato a investire in parole che prima sembravano impossibili per un museo statale, piani strategici, quindi era completamente estraneo al linguaggio di un museo statale, progetto scientifico e culturale strategico, pianificare la nostra attività, cioè non pensare soltanto all'oggi o alla fine dell'anno ma pianificare per almeno per i prossimi quattro anni e poi addirittura 8-10 fare dei plari pluriennali che corrispondono anche al nostro bilancio, che abbiamo un bilancio annuale e poi abbiamo una programmazione economica. E quindi grazie a questo, cioè utilizzando degli strumenti che sono più propri del marketing e della comunicazione, riuscire a trasformare quindi la semplice visita del visitatore in un'esperienza e che soprattutto riesca a coinvolgere tutti gli aspetti conoscitivi dei motivi. Quindi basare la nostra strategia molto sul coinvolgimento del visitatore, rendendolo sempre più persona singola, anche se fa parte di un target e quindi cercando di mirare le nostre azioni culturali. Quindi quello che mi preme sottolineare è che oggi c'è un po' la moda del digitale come se fosse fine a se stesso. E quindi in effetti non sempre per fare innovazione la tecnologia è essenziale. Cioè l'innovazione deve essere un significato di valore anche immateriale, più profondo anche a livello culturale. Cioè deve essere quell'arricchimento personale che permette il passaggio del reach all'engage. Cioè i musei hanno bisogno di innovazione per assorbire la tradizione, però non possono prescindere dal loro passato, da quella che è la tradizione museale italiana per arrivare all'innovazione. Sicuramente per noi musei pubblici, forse quando parliamo di innovazione quella che ci interessa di più è proprio l'innovazione civica. Cioè come il nostro museo dà contenuti culturali e permette questa evoluzione nel cittadino, che poi cittadino è civis proprio nel termine etomologico del termine. Cioè mi riferisco in primis ai miei visitatori territoriali, per poi a un visitatore cosmopolita fondamentalmente, al mio visitatore nel mondo. Quindi la mia attenzione si rivolge più ai musei archeologici, perché i musei archeologici sono un po' diversi, parlano di un passato molto lontano. Quindi come far sì, utilizzando gli strumenti di marketing e di comunicazione però per arrivare a uno scopo che è culturale, che questo passato diventi una conoscenza del presente, ma soprattutto un modo per costruire il futuro e quindi possa avere poi delle ricadute indirette, soprattutto in quello che è l'economia. Quindi fondamentalmente intanto una visione diversa, cioè creando, cioè la persona diventa il fulcro del mio piano di marketing, non più il brand, e soprattutto quello che diventa il fulcro è il recupero dell'identità, quindi è un concetto. Questo lo si fa attraverso sicuramente i valori, cioè capendo quali sono i valori materiali alla base, che sicuramente sono un senso di appartenenza, di comunità, il recupero, il coinvolgimento. E quindi coinvolgimento grazie al fatto che riesco, comincio a conoscere il mio pubblico, i miei visitatori, mi indirizzo verso il target e quindi posso avere poi la risposta di un engagement, di un coinvolgimento. Una connessione che mi può permettere, cioè quello che dicevo prima, tra presente, passato e futuro, per arrivare a casa, alla co-costruzione di paesaggi culturali, che passano anche dai paesaggi digitali. Ma io sto investendo su un paesaggio culturale, sto investendo in cultura, attraverso però gli strumenti che può aziendali. Quindi lo stesso strumento delle Marche della Comunità, però lo devo traghettare in quello che è, comunque una struttura complessa, una struttura che capitalizza, torno a dire, cultura, capitale umano, quindi non fa profitto. Il suo profitto è investire sulle persone. E sicuramente i Louvre in questo, i grandi musei internazionali, hanno capito anche un po' prima di noi, per esempio la Petite Galerie, che il Louvre ha dedicato ai suoi visitatori piccoli. Quindi loro hanno una loro galleria. Addirittura questa mostra, che è stata un po' evaniristica, cioè come legare il mito antico al mito moderno, che in fondo voglio dire guerre stellari, una trasposizione alla mitologia classica, in realtà in un genere della fantascienza. E quindi come ti collego è Ercole appunto ai grandi eroi alla fine di guerre stellari. Anche noi, nel nostro piccolo, perché comunque il Louvre ha iniziato molti anni prima di noi, che cosa abbiamo deciso di fare? Quindi anche il MAN, il Museo archeologico nazionale di Napoli, che è uno dei più avveniristi in questi musei statali oggi, anche lui con Museo Autonomia Speciale. Chiaramente investiamo in digitale, però come dicevo prima, è un'innovazione che permette di salvaguardare la tradizione. E quindi innanzitutto, se io mi devo rivolgere al mio pubblico potenziale, devo uscire da quella forma mentis tipica, un po' dei depositari della cultura italiana, che avevano una concezione molto elitaria della cultura. No, i nostri musei devono avere alla base la democrazia culturale, soprattutto se sono pubblici, perché il patrimonio culturale italiano appartiene a tutti. E quindi investiamo in digitale, però per salvaguardare il patrimonio. Quindi per esempio la digitalizzazione, scusate, utilizzata nel nostro caso, stiamo facendo un progetto di digitalizzazione di 40 mila reperti in open data. Attualmente sarà il Museo d'Europa con il più alto numero di reperti digitalizzati completamente open data. E poi la creazione di un fab lab che si dedicherà a stampanti 3D e all'interno del museo. Quindi il modello è non il museo che crea, è la start-up che poi lavora e che poi rimane. Noi diamo un aiuto gestionale i primi 18 mesi e poi l'impresa è impresa che fa industria culturale, industria creativa e coabita con noi, senza più questa diffidenza che credetemi è difficile in un museo pubblico, statale, fra privato e pubblico. No, noi cerchiamo di garantire questi tre elementi insieme. Cioè da una parte abbiamo la cultura pubblica, dall'altra parte abbiamo il settore dell'impresa, soprattutto in questo caso impresa culturale, e poi il terzo abbiamo la comunità. Questi tre elementi si debbono fondere, quindi chiaramente che ho bisogno degli strumenti del marketing e della comunicazione alla base, però devo avere innanzitutto un progetto scientifico e culturale che sia profondo e che sia calato nel mio contesto. In campo di digitalizzazione noi abbiamo investito molto per esempio su tutte le esperienze del videomapping, cercando di creare sempre, quindi sto parlando di impresa, quindi fidandoci, perché è un discorso di fiducia, soprattutto di imprese creative sul territorio. Sono molto contenta di ricordare che Taranto oggi non ha solo Ilva, ma ci sono tantissime start-up e imprese culturali innovative che non hanno niente da invidiare al resto d'Italia e soprattutto d'Europa, ed è grazie a loro che noi stiamo portando avanti questo progetto. Cioè il museo come appare all'esterno, come partecipa al decoro urbano, però chiaramente creando un binomio fra quello che è il suo esterno e quello che è l'interno. In questo caso abbiamo fatto una mostra mitomania, oggetti che erano stati rubati, Metropolitan, il Getty Museum esponevano come se fossero loro, poi per fortuna con un'indagine internazionale si è capito che erano sostratti illecitamente. Abbiamo fatto questa mostra, quindi con una visione anche del museo che si presenta all'esterno. Ecco che cosa mi servono, quindi i piani di marketing, piani di promozione del museo e piani di comunicazione, sono fondamentali per riuscire a creare quello che dicevo prima, cioè questo legame identitario fra cittadini, visitatori, comunità e patrimonio culturale. E quindi creare questa esperienza che possa coinvolgere gli aspetti conoscitivi e emotivi e che permetta poi questa stretta correlazione, quindi questo racconto fra passato, presente e futuro. Noi, questi nostri musei archeologici hanno cercato di utilizzare soprattutto le strategie di marketing digitale e credetemi già avere dei social sembrava assolutamente impossibile perché questi musei, nessuno aveva dei social per esempio, perché non si doveva comunicare con l'esterno. Ci si rivolgeva soprattutto a un target di pubblico, di conoscitori o di specialisti, soprattutto gli archeologi, io sono archeologa, alla base devo dire che c'è questa visione un po' conservatrice del patrimonio culturale. Quindi questi musei, quindi soprattutto il museo di Napoli, ma anche il nostro, gli altri musei archeologici hanno cominciato a investire in quella che è il social media management e soprattutto alle strategie. Quindi interessante perché i dati hanno cominciato a diventare una risorsa importante per alimentare il mio progetto culturale e sono riusciti a costruire questa relazione importante fra noi e gli utenti e quindi a creare il vero valore del brand. Quindi a permettermi di brandizzare che cosa? Alla fine, alla base, come dicevo prima, il recupero dell'identità. Non il Marta o il Man soltanto diciamo come aziende culturali, ma abbiamo capitalizzato questo valore profondo più importante che è il recupero dell'identitario. Quindi mi hanno permesso che il museo potesse diventare un vettore, cioè un museo inclusivo, comunitario, connesso, però soprattutto quel valore di capitale umano che dicevo prima è questo, cioè è uno spazio di cittadinanza, di formatività sociale che mi permette poi l'innovazione civica, tutto passando attraverso strumenti di marketing, comunicazione e soprattutto l'innovazione. Il Man, il Museo archeologico di Napoli, ha fatto questo bellissimo progetto di marketing e comunicazione che si chiama Obbia del Man, è l'acronimo interessante, con tre fasi. La prima fase è quella di promuovere semplicemente l'immagine del museo sul piano nazionale e internazionale, arrivando a un audience development, mediante appunto che cosa? La produzione di artisti, quindi artisti e designer che si ispirano a opere del Man e le disseminano nel mondo, quindi anche qui favorendo quella che è l'industria creativa, l'industria culturale. Il secondo asse, aprire il museo al territorio, quindi creare, favorire l'hub, quindi lo snodo, l'interconnessione fra il museo e tutto il suo territorio. Il terzo, che ancora, diciamo, deve arrivare, è la verifica dell'impatto dell'attività e è quella del networking in termini di accrescimento dell'audience del Man, che chiaramente è una fase che loro potranno fare, diciamo, via via, che le prime due fasi saranno mature. Questo è interessante perché alcuni anni fa non sarebbe mai potuto accadere, cioè creare un progetto strategico, perché questo è un vero progetto a sé stante, Daniela Savi e Carla Langella sono state le ideatrici di questo progetto, che permettesse di pianificare l'attività dei prossimi anni del museo, quindi alla base è un progetto scientifico e culturale, sul quale si innesta un progetto di marketing e di comunicazione. Per quanto riguarda il nostro bisogno di creare innovazione civica, questo è quello che abbiamo fatto invece noi al MARTA, cioè creare le mappe di comunità. Quindi lavorare con i cittadini per arrivare alla democrazia culturale, mettere in pianta, fare delle mappe interattive che poi possono essere, diventare uno strumento importante di connessione con il territorio, perché poi si arricchiscono di che cosa? Di tutti quegli stakeholders economici del territorio. Intanto mettiamo il patrimonio culturale materiale immateriale e poi immaginiamoci insieme la taranto che vorremmo, tutti insieme, a partire dal dato economico, cioè dal dato culturale per passare al dato economico. Beh, questo ha portato un grande coinvolgimento, noi l'abbiamo fatto con gli studenti, un grande coinvolgimento della società civile che si è sentita partecipe, cioè questo è il cambiamento dell'ottica, cioè dall'engagement serve a questo, cioè il visitatore da ruolo passivo e semplicemente io vado al museo, vedo le opere e riparto, diventa il protagonista, cioè coproduce contenuti e quindi sviluppo insieme al suo museo. Quindi ci siamo basati soprattutto anche il man su questo, cioè prima abbiamo cercato di dedicarci chi sono i nostri visitatori, lo dicevo prima, cioè i visitatori reali ed effettivi, questo si è basato su quelli che sono gli strumenti classici, cioè la conoscenza, quindi l'identità, la profilazione, il targeting, le customer satisfaction non venivano fatte, quindi abbiamo cominciato a fare tutte le analisi anche qualitative e poi tutta la parte di quick surveying e quindi utilizzando appunto i vari strumenti. I non pubblici che sono importanti come dicevo prima, abbiamo cominciato a interrogarci sulle barriere all'accesso, parlo di barriere che ovviamente sono culturali, sociali, perché non si viene e chi non viene, qual è la percezione dell'istituzione, perché non si viene, quali sono invece dei fattori incentivanti per far venire questi non pubblici e quindi abbiamo iniziato le nostre sperimentazioni, soprattutto i nostri progetti partecipati della cultura dal basso, co-costruiamo insieme un progetto perché questi non pubblici diventino non solo visitatori reali, ma riusciamo a fidelizzarli, diventino veramente protagonisti del nostro museo e quindi individuando chiaramente dei punti di contatto collaterali. Il rafforzamento dei pubblici effettivi, quindi attraverso la fidelizzazione, il miglioramento dell'esperienza, della qualità funzionale del processo e come dicevo prima il coinvolgimento. Chiaramente qui i social ci sono stati molto utili perché è la strategia sui social che ci ha permesso anche investendo molto su live, quindi abbiamo fatto diversi progetti con videomakers che hanno permesso di svelare soprattutto il museo dietro le quinte, il museo che non ti aspetti, il museo che si dedica a te, quindi abbiamo cominciato a coccolare i nostri visitatori che sono diventati protagonisti, lanciando anche dei contest che hanno avuto un certo risultato. I non pubblici, quindi rafforzamento attraverso un rafforzamento dei bacini di utenza, abbiamo ripensato a tutte le modalità comunicative, incentivazione della prima visita soprattutto attraverso Facebook, iniziative extra mania di co-branding che siamo riusciti a fare e poi una progettazione partecipata. L'idea del visitatore, anche lontano, come ambasciatore, quindi una comunicazione tra pari. Non mi ergo più come io sono il produttore di cultura e tu sei l'utente discente, co-costruiamo insieme il nostro progetto. Per quanto riguarda il nostro progetto, curato appunto da Meeting Plan e Never Before, poi alla fine si sta concentrando su un po' questo, cioè migliorare una progettazione dell'attività, fare delle attività di marketing più precise, avere un'esperienza museale più vicina alle esigenze del pubblico, come vi dicevo prima, stimolare le relazioni e il dialogo, anche la criticità e i contest ci sono stati molto utili, cioè qual è la visione critica e qual è l'apporto, cioè quale sarà la nostra progettazione culturale futura, intervenite direttamente in quella che è l'attività di progettazione del museo e che ci ha permesso un maggior rapporto con i potenziali partner e soprattutto capire meglio i processi di scelta che faceva il nostro pubblico. Le azioni principali sono state in questi musei archeologici e un po' questi musei autonomia speciale di cui dicevo prima, sicuramente hanno iniziato dal migliorare la loro immagine coordinata e ricrearla, quindi averne una nuova e passare o da un nuovo logo oppure come il nostro caso a un restyling del logo. Quindi prima immagini le coordinate non esistevano, esistevano solo alcuni loghi. Avere dei nuovi payoff in linea con le prospettive di marketing, il nostro è Pass for Future, quindi noi abbiamo scelto Pass for Future come payoff del museo, qui per testimoniare proprio questo profondo anello che lega il passato al futuro. Nuove segnaletiche visive interne ed esterne perché questi musei non si comprendeva niente, quindi chiaramente il visitatore arrivava e si pensava che già conoscesse a memoria diciamo tutto il percorso, noi lo stiamo facendo in finalizzazione, il man l'ha fatto, quindi si dava per scontato che il visitatore non fosse necessario orientarlo, per esempio anche fisicamente oltre che culturalmente all'interno del museo. Chiaramente l'importanza dell'incremento del brand, awareness e anche della brand reputation e travel appeal, questo progetto che purtroppo oggi non cura più, non è più insieme al MIBAC, ci ha dato delle interessanti feedback sulla nostra attività, importantissime, su cosa c'è da migliorare, però anche qual era, noi siamo stati sorpresi, questo lo dico con grande orgoglio, perché nonostante all'inizio fossimo molto artigianali, fosse tutto insomma diciamo lavoro nostro, siamo stati fra i primi tre, sempre fra i primi tre musei nazionali, statali sto dicendo, con il più alto gradimento da parte dei social, quando gli altri due che si alternavano fra i grandi del gota, dei musei a cui potete pensare, avevano già però in atto una bella strategia consolidata di marketing, travel appeal è stata una base importante per capire qual era la nostra brand reputation e in chiave reputazionale dove stavamo andando, quindi una comunicazione che abbiamo deciso di basare su profonde relazioni e interazioni, continuo a dire, con il nostro visitatore, che per noi sono anche interazioni culturali importanti, interazioni sociali, fino ad arrivare alla fidelizzazione, il MAN ha fatto per primo questo bel progetto Open MAN, noi lo stiamo appunto, lo avremo fra poco, quindi creare queste card, la card per individui, la family card e soprattutto una novità in un museo statale che condividiamo con il MAN, quindi è un'idea che ci vede vicini in questo, la card corporate, sarebbe stato impensabile alcuni anni fa pensare a un museo statale, anzi non sarebbe stato possibile, sarebbe stato quasi una vergogna oppure un'onta pensare che un museo nazionale italiano e statale potesse fare una carta corporate, fra l'altro non uguale per tutti ma a seconda con convenzioni chiaramente dipende, dipendentemente dal privato, dal tipo di attività, dal tipo di impresa con cui io mi trovo a relazionare e quindi creando una card esclusiva, chiaro esclusiva, perché comunque in un rapporto di scambio reciproco in cui non vedo niente di scandaloso ma semplicemente un bel rapporto basato su best practice fa pubblico e privato. Il coinvolgimento, molto importante, quindi come parlavo prima, quindi l'importanza dell'attrazione del visitatore, l'interazione, la partecipazione attiva, l'esperienza che ci permette di passare dallo storytelling allo story doing di cui parlavo prima, cioè prima il visitatore viene raccolto in uno storytelling del museo secondo i vari strumenti, i vari contenuti, poi riracconta questa storia, ma per noi non è importante solo questo, è quando diventa uno story doing, cioè quando lui diventa protagonista e racconta la sua storia, che è alla base il museo però con il suo linguaggio, con i suoi contenuti e quindi diventa partecipante attivo alla nostra politica culturale. In questo senso per esempio il Mann di Napoli ha deciso di creare questa bella pubblicazione, i gialli, il delitto al museo, quindi i vari scrittori, è stato finanziato, hanno scelto le opere del museo e sono diventati appunto protagoniste di questo giallo. Ora parlo dei bambini come per dire che fanno parte a pieno titolo del nostro museo, prima era impensabile per esempio mettere dei tavolini nel percorso, perché sembrava che non avessero niente a che fare con le opere d'arte, anzi disturbassero, invece adesso i bambini stanno al Marta, disegnano e queste sono le teste di Marta che avevamo prima visto, la nostra Marta, perché Marta è l'acronimo del museo però è un po' la nostra Marta e loro sono delle piccole Marte, queste bambine che alla fine apportano la loro esperienza. L'apertura per esempio dei depositi del museo, prima sarebbe stato impensabile aprire i depositi musei statali a tutti, in questo caso noi abbiamo reso partecipi i giovani studenti di Toronto, li abbiamo formati e sono stati loro stessi, nei giornate del FAI, a spiegare i reperti con il loro linguaggio, sottolineo, a tutti, con una forma proprio di compartecipazione appunto a quel patrimonio gelosamente custodito prima nei depositi che noi aprivamo in un'ottica proprio di apertura e di inclusione al patrimonio. Addirittura abbiamo aperto i nostri laboratori di restauro, quindi percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche quelli prima invalicabili, chiaramente, quindi i ragazzi hanno fatto non solo dei progetti, ma sono diventati i protagonisti loro stessi del patrimonio attraverso anche un approccio molto materiale e hanno contribuito ai social. Carco Bain al Marta, mi sono attirata diciamo tutti gli anatemi dei miei colleghi un po' più anziani regime, se possiamo chiamare così, chiaramente era uno scandalo. Questo è un fotomontaggio che abbiamo fatto, un satiro che prende la chitarra come Carco Bain, eccetera. Quindi che cosa ci fa la mostra di Carco Bain, una mostra fotografica? Abbiamo esposto cinque inediti dei fotografi ufficiali di Carco Bain di Nirvana al Marta. Che cosa ci fa al Marta? Semplicemente siamo uno dei musei con la più grande collezione di strumenti musicali antichi al mondo. Aristossian e Archita da Taranto sono stati due personaggi importanti, pochi li conoscono, sono stati grandi teorici della musica, hanno creato dei tempi musicali e quindi era normale che da Aristossian e della Magna Grecia si arrivasse con questo fil rouge fino a i nirvana, che dai cembali che noi abbiamo piccolini nelle vetrine si arrivasse ai piatti della batteria dei nostri nirvana. Questa è un po' la mostra. Anche questa l'abbiamo fatta perché? Perché nell'analisi di custom e satisfaction era questo che anche si lamentava nel pubblico. Cioè qual è il protagonismo soprattutto di un target tardo adolescenziale giovanile? Perché non possiamo avere delle mostre che siano un po' più dirompenti e non pensare solo all'archeologia come alla scienza del passato, ma nella sua attualizzazione appunto, pass for future, cioè in un'idea contemporanea dell'archeologia e che permettesse di fare degli accostamenti che sembravano strani, ma in realtà ci sono. Aprire, aprire a chi? Aprire ai migranti e quindi mettere in relazione le nostre opere con il tema della migrazione del passato, che è un tema molto importante per noi archeologi, le grandi migrazioni, il popolamento e il multiculturalismo, a partire dai migranti di oggi. E quindi anche questo con un approccio di protagonismo, nel senso io vengo al museo, faccio un progetto e qui abbiamo fatto una bella strategia di social dedicati a tutta questa parte. Fra l'altro voglio indicare che questo signore è anche non vedente, quindi era un percorso multisensoriale, ecco perché sta toccando anche una statua, multisensoriale in cui si sono resi protagonisti e abbiamo reso il museo completamente accessibile a queste persone, co-creando con loro un museo diverso, un museo aperto, un museo inclusivo. Chiaramente aprendo a tutte le arti, ma non come museo come contenitore, cioè un museo come progetto culturale, cioè si co-progettano le arti nel museo come azione appunto di marketing culturale e soprattutto scegliendo appositamente delle eccellenze, anche qui in senso di impresa culturale. Il marketing più semplice, quindi parlavo prima delle azioni di co-progettazione con tutti gli stakeholders economici, cosa che prima, ripeto, sarebbe stato impensabile aprire a quella che è per esempio l'industria dell'enogastronomia, che non sia solo fare il catering, ma valorizzare il territorio. Anche questo è un patrimonio importante, patrimonio culturale non è solo quello del passato. Le nuove tecnologie, i media digitali ci hanno permesso, in effetti, sono strumenti importanti, opportunità di rilievo, che favoriscono questo modello partecipato, processo di museo inclusivo e soprattutto la gamification, cioè come utilizzare appunto il linguaggio dei videogiochi in contesti che sono completamente esterni. Noi e il man, quindi il man con il suo videogioco Father and Son e il nostro Pass for Future siamo stati i primi due musei nazionali italiani, non di scienze, ma di archeologici e storia dell'arte nella storia dei musei, a creare un videogioco pubblicato, perché gli altri li hanno fatti in altro modo. Oggi entrambi sono scaricabili su Google Play e Apple Store, proprio perché noi volevamo utilizzare al meglio proprio il nostro engagement, il coinvolgimento e quindi di utilizzare la gamification per questo. Il videogioco Father and Son del Man che ha riscosso tantissimo successo, è stato molto innovativo e poi noi con il nostro videogioco, questo è un breve trailer, una storia fra passato, presente e futuro. È una storia di William che parte da Londra alla scoperta di questa strana donna misteriosa che scompare e va dove? A Taranto. È un videogioco in 2D a scorrimento orizzontale con tutte grafiche disegnate a mano. Questo è il museo perché ci sono, per entrare al museo ci vuole un check-in, quindi si deve fare un check-in per accedere ai livelli superiori del gioco, quindi abbiamo cercato di favorire l'incoming perché se non si va al museo per fare il check-in non si accede ai livelli superiori. Questo videogioco è stato, ha ricevuto appunto il premio come miglior progetto digitale dei beni culturali del 2018 secondo la classifica The Best of Art Tribune del 2018. Per noi che cosa era importante? Era importante chiaramente il nostro progetto culturale, quindi valorizzare il museo, valorizzare i quaisaggi culturali, valorizzarlo come hub, però soprattutto creare che cosa? Favorire l'incoming. Infatti abbiamo oggi delle statistiche molto interessanti su questo, abbiamo il riscontro perché abbiamo, scusate che è successo. Le geolocalizzazioni, non è sparito? Sì. Questi sono, appunto, l'abbiamo realizzato con tuo museo che è il collettivo europeo lead della gamification, Fabio Viola è stato il game director del progetto, una colonna sonora originale e come dicevo il nostro intento era di creare Incoming. Pensate a Assassin's Creed, quello che ha creato a Monteriggioni, cioè ha creato un turismo videoludico che è sempre più importante. Chiaramente lì sono stati fatti ben altri investimenti perché il nostro si è basato su una grande sostenibilità economica. Però già abbiamo i risultati, abbiamo i risultati di videogiocatori che diventano dei viaggiatori, non soltanto digitali ma diventano viaggiatori reali. Come strategia sicuramente questo a che cosa ha portato? Io sono contro considerare solo i musei come numeri, però è importante dirlo. In effetti questa strategia ci ha permesso rispetto a tre anni fa, quando abbiamo ereditato il museo, di arrivare a 42% in più di visitatori e a 80% di introiti. Non visitatori passivi ma come abbiamo visto anche attivi. Quindi vi lascio con questa bellissima foto di questa bambina stupita di fronte alle monete del Marta. Abbiamo dedicato a questi bambini e la città vecchia di Taranto un contesto sociale degradato a cui abbiamo dato in premio questi laboratori sulla numismatica e con questa bellissima frase di Franklin che secondo me raccoglie al meglio forse il messaggio che ho cercato di comunicare quest'oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Non so se ci sono domande, curiosità, tutto chiaro? Prego. Sicuramente da parte mia ci sono i complimenti perché io sono di Bari ma vivo a Firenze e mi sono arrivati parecchi feedback positivi sul museo di Taranto negli ultimi tre anni proprio quindi da quando lei si è insediata. Quindi complimenti e sicuramente mi farebbe piacere visitarlo quando tornerò in Puglia. Benissimo, l'aspetto quando vuole. Altre domande? Allora se non ci sono altre domande io vi consiglio di scaricare il videogioco qui di Pass for Future quindi è gratuito in doppia versione italiano-inglese su Apple Store o Google Play e magari poi fateci sapere appunto il vostro feedback è fondamentale e vi aspettiamo a Taranto sperando che questo possa essere servito a incuriosirvi. Grazie e buona giornata.